ben ritrovati su riot radio show io sono Frankie F oggi staremo insieme come come sempre come ogni settimana per un'ora un'ora di techno music dove passeremo moltissime novità musicali che nonostante insomma il periodo non sia di quelli più rosei la musica va avanti e le produzioni continuano comunque ad uscire per questa speciale puntata ho invitato ingrid bj italiana che debutterà sulla mia label rxc proprio domani venerdì 6 novembre con il suo p bullshit e troverete all'interno anche il remix di mattia trani e lp uscirà domani in digitale e spero a fine novembre anche in venile ciao 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 è arrivato il momento, è il momento di ascoltare appunto Bullshit, ma prima Ingrid ha messo anche un mio brano che è Solid, uscito su RXC ad agosto per il catalogo 001, mentre appunto Bullshit sarà il catalogo 002, quindi ci ascoltiamo subito Frankie F. Solid e Ingrid Bullshit RXC. Grazie a tutti. 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 su. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.